È sicuramente un primato anche a livello nazionale, rapportato alla popolazione ovviamente. Obiettivo raggiunto, quasi 50.000 dosi somministrate in 24 ore in Veneto, a dimostrare come la campagna vaccinale stia accelerando forte anche delle forniture. 150.000 le dosi di AstraZeneca in arrivo, a cui si aggiungono le 220.000 già a destinazione. Si aspettano 20.000 a fiale di Moderna, saranno poi 29.000 le dosi a settimana, 14.000 per Johnson & Johnson e 225.000 Pfizer. Completata l'immunizzazione degli over 80 e con un 70% di ultra settantenni già vaccinati, si punta a completare entro metà maggio la fascia 60-69 anni. Messi in sicurezza gli over 60, cioè coloro che hanno più di 60 anni, diciamo in linea di principio abbiamo fatto gran parte del lavoro della messa in sicurezza della comunità. E mentre fuori dalla sede della protezione civile va in scena la protesta degli studenti, all'interno della sala stampa irrompe nuovamente la polemica legata ai test rapidi. La Presidente della Quinta Commissione Consigliare, Brescacina, ha convocato per martedì 4 maggio alle 12 la seduta, all'ordine del giorno l'audizione del Presidente Zaia, che verrà affiancato da una serie di dirigenti e tecnici regionali nel confronto chiesto dalle opposizioni nel corso dell'ultima seduta del Consiglio. A chi chiede al Governatore se non sarebbe opportuno che in quella sede sia presente anche il Professor Andrea Crisanti, Zaia risponde così. A me è stata chiesta la mia audizione, ho detto io vengo con i tecnici della ragione, punto. Se qualcun altro vuole invitare qualcun altro sono cose che decide la Commissione. Io non mi sono mai opposto a nulla, c'è la trasparenza fondamentale, punto. Dopodiché se l'opposizione è presente in stanza per sentire anche il Professore contemporaneamente, penso che nessuno neghi la presenza. Andiamo avanti e vediamo come finirà questa storia. Non esiste, aggiunge Zaia, che i miei tecnici a cui sono attribuite le scelte ora contestate vengano tacciati da gente che passa per strada. Che vengono tacciati con delle persone talmente disumani e poco attenti che poi queste scelte vanno a dar vita a mortalità. Martedì i tecnici vengono e ci mettono come al solito la faccia e daranno la loro versione. Se poi ancora non sarà chiaro qualcuno andrà in procura, ci mette la firma e la faccia. A proposito poi di un suo futuro politico, anche alla luce dei dati di alcuni sondaggi che lo vedrebbero davanti al segretario della Lega Salvini in termini di popolarità, la secca replica di Zaia. Non mi interessa il ruolo di Presidente del Consiglio, di segretario di partito, perché mi stanno solo che creando problemi. Tant'è vero che penso che questa attenzione e queste continue polemiche che ha il Veneto, che non si merita, siano dettate dal fatto che qui c'è qualcuno che gode del grande consenso da parte di Veneti. A quelli preoccupati del mio futuro, state tranquilli.